C'è questo a dare e poi ci diamo ai deathmatch. Ok. Tanti oggi non ci sono. Che c'era? Mi dice che c'è un hacker. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? che cosa trovi per lì dai grazie ma va la alti per scendere ma va la alti per scendere 6 no da dietro cazzo no ma preso io lo sapevo che sarebbe finito così manca me, da dietro poi si muocca entrano qua sopra una roccaforte a me c'è il coltello cross the map come direbbe il shir leonidas a cross the path a cross the path uno ne manca c'è la camperatissima eh no volevo rispettarlo io no dove dov'è? ci si può avviare dove? è morto noi abbiamo won il niente ha avviato il niente ha avviato non avviato non avviato il niente ha avviato c'è giù il niente ha avviato